Siamo in Modena, siamo qui con Massimo Cirri, che era ospite stasera alla sesta edizione di Matt al Vibra, dove però ci hanno cacciato. Volevamo farle qualche domanda sul suo libro che è Dall'altra parte del mondo, una storia che racconta la vita di Aldo Togliatti, appunto il figlio di Palmiro Togliatti. Volevamo chiederle cosa l'ha portato ad appassionarsi alla storia del figlio, in modo così approfondito. Innanzitutto, maledetti quello del Vibra, ci hanno cacciati, siamo qua sotto un lampione come due anziane prostitute, ma non lo siamo. Mi sono molto appassionato alla storia di Aldo Togliatti perché una mattina, ascoltando la radio, avevo sentito una notizia che diceva che a Modena, in una clinica psichiatrica, era morto il figlio di Palmiro Togliatti, che era ricoverato lì da 31 anni. A me è sembrato di aver capito male o che la radio avesse detto una cosa sbagliata. La radio, a parte radio liberamente, a volte dice delle cose sbagliate. Perché mi sembrava che un ricovero, un internamento di 31 anni fosse una notizia, una cosa vecchia, perché le persone non stanno ricoverate 31 anni, era il 2011, sembrava una cosa del secolo scorso. Poi è andato a controllare ed era proprio vero. Aldo Togliatti è morto a 86 anni a Villa Igea, qui vicino a Modena, e ci era entrato nel 1980. Quindi c'è stato veramente 31 anni. E quindi, incuriosito da questa cosa, ho ricostruito un po' la sua vita, una vita molto complicata. Lui è stato tanti anni in Unione Sovietica, è stato in uno strano collegio dove stavano i figli dei comunisti di tutto il mondo. Una vita molto infelice, attraversata da tante cose e soprattutto da 31 anni di ricovero, che sono tantini. Volevamo anche chiederle, ma qual era lo stigma che c'era allora? Qual era la portata delle conseguenze che avrebbe appunto causato il rendere pubblico il fatto che il figlio di Palmiro Togliatti, Aldo Togliatti, era paziente in una clinica privata e quindi un utente della salute mentale? Credo che fosse una questione di vergogna, perché ci è voluto e ci vorrà ancora un po' di tempo, ma abbiamo fatto delle cose molti passi in avanti, per cui l'avere un problema di salute mentale, uno, è una cosa che succede molto spesso. Dicono le statistiche che un italiano su tre nella sua vita avrà un problema di salute mentale, a volte è un problema di quelli più leggeri che ci lasciano nella nostra vita, a volte è una questione più grossa, però non c'è nulla di cui vergognarsi, perché è una questione di tutti e se ne esce, se ne entra e se uno la traversa spesso ne esce meglio di come c'è entrato, perché può essere, come da tutte le cose che interrogano la tua vita, poi uscirne migliorato. Credo che in quegli anni ci fosse più vergogna, c'era il fatto che poi la questione della sofferenza mentale di Aldo Togliatti era stata utilizzata come arma contro suo padre e quindi era stata molto utilizzata dalla stampa scandalistica. La stampa scandalistica è una merda, volevo dire questa cosa. Adesso arriva un furgone che ci rapisce della stampa scandalistica, credo che ho visto signorini di chi è la guida, siamo in pericolo. Volevamo farle un'ultima domanda, ma solo una curiosità, si dice che Palmiro era il migliore, ma qual era, perché il migliore? Da dove arrivi il cosa migliore non lo so francamente, sono rimasto male, non ci ho mai pensato, credo che fosse, lo chiamano così, il migliore come il condottiero, credo il primo e credo che fosse veramente una persona un po' differente dagli altri, un po' migliore. Sai che in Russia c'è una città che si chiama Togliatti, noi italiani diciamo Togliatti Grad, perché cosa no, si chiama semplicemente Togliatti, quando è caduto l'Unione Sovietica hanno fatto un referendum chiedendo ai cittadini di Togliatti, volete voi continuare a chiamarvi Togliatti o riprendere il nome prima e hanno detto no, grazie, va bene Togliatti, quindi sai, c'hai un papà che è anche una città, che sono casini insomma. Hanno fatto anche una manifestazione, mi sembra, anche con foto di Togliatti in Russia o no, non ho sbaglio. Nell'Unione Sovietica era molto rispettato e molto, credo che ci siano dei francobolli, dei francobolli dell'Unione Sovietica sottogliati, però un pezzo è rimasto, insomma. Eh? Beh, mi sono perso, mi sono perso. Vabbè. E poi nel Vibra, ci hanno cacciato, non andate al Vibra che vi cacciano fuori. Vabbè, ringraziamo Massimo Cirri. Vabbè, ringraziamo Massimo Cirri e salute.